e oggi vi saluto dal mio laboratorio d'arte sacra qui a santa christina in val gardena io ho frequentato l'accademia urbana delle arti a roma tra i corsi più importanti c'era sicuramente il corso teorico d'arte sacra poi il corso da fresco il corso di pittura e di disegno grazie alla professionalità del direttore rodolfo papa e di tutti i docenti alle conferenze posso dire che è stata un'esperienza molto positiva e da consigliare fortemente ai professionisti dell'arte sacra pertanto vi mando un forte abbraccio a tutti e vi auguro tante soddisfazioni nel mondo dell'arte grazie a tutti